Manca poco per la diciottesima edizione della Maratonina Internazionale Città di Arezzo in programma domenica con partenze e arrivo su Viale Roma, pochi metri da Piazza Guido Monaco. Le cifre, dopo quelle eclatanti dello scorso anno, sono ancora soddisfacenti, come afferma Fabio Sinatti, alla guida dell'Unione Polisportiva Policiano Arezzo Atletica. È stata raggiunta la quota di 1.200 iscritti nella gara di Maratonina Competitiva. Siamo quasi ad 800 per le due non competitive di 3-8 km, spiega Sinatti. Insomma, alla luce delle tante concomitanze, siamo soddisfatti anche sul piano tecnico per la lista dei top runner. Sotto l'aspetto agonistico, il cast si annuncia di assoluto valore, soprattutto in campo maschile, con ben 15 keniani, un ugandese, un ruandese, un romeno e 9 marocchini, ma occhi puntati sull'azzurro e il mazzouri. L'unico, forse, in grado di inserirsi tra gli attesi protagonisti africani, tra le donne, numero molto più esiguo d'atlete. Questo, nonostante l'organizzazione abbia previsto un monte premi per almeno 10 donne, più quello per le italiane, come richiesto dalla FIDAL. Non va dimenticato che questa maratonina di Arezzo sarà anche valida per i titoli tricolori di tre categorie, quali vigili del fuoco, medici e consulenti del lavoro, per tutti il via alle ore 9.